bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qua è Steve Parla sta flashando e oggi siamo sul episodio di chat roulette dai e io direi che possiamo fare parte del video ora non che gente malata troviamo no gay con quale faccia me lo stai dicendo però questo sta al contrario il cazzo fa essere così hello hello no bella hello 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 tu sei malato tu sei malato yes of course yes un cuo un cuo una colonna un cuo 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 son Asuti e la paz la bomba proprio ciao bella grazie buonoste sta posto sono morto ah Sì, andiamo a prendere un po' di schifo. Ciao! Ma adesso è merluzzo! Sì! Ehi! 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 Sei un po' malato amico mio! Hello? 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 Wait! No! Please? No! Please? No! Mio! 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 Ho ancora beccato una tipa! No! Tu non sei una tipa! Vai via! You are not a girl! Via dalle palle! No! 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 Sei tutto rosa amico mio Sei tutto rosa Tutto shock Zizz Una classica copia Hello Say hello YouTube How are you? Say hello YouTube Hi Hello Bye 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 Hello Sei a reporter You are a reporter? No No Oh no Expecto Patronum Ok Bye 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 Ok Let's do this Ok Ok Bye Satu Malta La Assalto Stele Di 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 Mi Di 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 Ho vinto io tutto Ho vinto io tutto Ho vinto io Ho vinto io tutto Ho 19 anni Dove 19 anni Dove Dove Se vuoi fare Non fa Iscriviti al canale Lo metto qua in alto Iscriviti al canale Aspetta no mi devo spostarlo qui Ma che cazzo sei Se tutto va Hello No 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 Che cazzo sei In conto con Freddy Krueger Che cazzo sei Che cazzo sei Che cazzo sei Amico gay C'è l'amico gay C'è l'amico gay No Via le mani Wait 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 No No Cazzo sei Cazzo sei Come mi scandalizza Una puntata Mi fanno i fancazzisti Oddio Vederti stipendi ovunque Ma non c'è Dai Una tipa faiga Non c'è Ci proviamo Una tipa faiga Non c'è E due Da la vita qua Hai No 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 La La sega della salsiccia Sembra qua Mancano solamente I Krauti E siamo a posto Hai Due volte ho beccato quella Due volte La terza volta Scatta il bacio Allora Alla prossima tipa Che trovo Con le tette Giuro stacco Se ne foto Ah Sprovvisto Ragazzi direi Che per oggi Può andare bene così E Pieno gli spiepettatori Ci vediamo A un prossimo video E Bella ragazzi